Nico offre gli appimila ai morti. Almeno mi sarò fatto una bella dormita prima dell'impresa, giusto? Sbagliato. Quella notte, in sogno, mi ritrovai nella cabina del capitano della principessa Andromeda. Le finestre erano spalancate su un mare rischiarato dalla luna. Un vento freddo frusciava fra le tende di velluto. Luke era inginocchiato su un tappeto persiano davanti al sarcofago d'oro di Crono. Al chiaro di luna i suoi capelli biondi sembravano candidi. Indossava un antico chitone greco e un imation, una specie di mantello che gli ricadeva a lungo dalle spalle. Quelle vesti bianche gli conferivano un chedi etereo, di irreale, come una delle divinità minori dell'Olimpo. L'ultima volta che l'avevo visto era privo di sensi e con le ossa rotte dopo una brutta caduta dal monte Tam. Ora sembrava stesse bene. Quasi troppo bene. Le nostre spie riferiscono che abbiamo avuto successo, mio signore, disse. Il campo mezzosangue ha lanciato un'impresa, come aveva predetto lei. La nostra parte dell'affare è quasi conclusa. Ottimo. Più che parlare, la voce di Crono sembrò conficcarsi nella mia mente come un pugnale. Era di una crudeltà agghiacciante. Quando avremo i mezzi necessari per orientarci, condurrò l'avanguardia io stesso. Luke chiuse gli occhi come per raccogliere i pensieri. Mio signore, forse è troppo presto. Forse è meglio che siano Crio o Iperione. No! La voce era bassa, ma molto ferma. Lo farò io. Basterà che un'ultima anima si unisca alla nostra causa e finalmente risorgerò dal tartaro. Ma la forma, mio signore... La voce di Luke cominciò a tremare. Mostrami la tua spada, Luke Castellan. Trasalì. Mi resi conto di non avere mai sentito il cognome di Luke prima di allora. Non ci avevo mai pensato. Luke sguainò la spada. Il doppio filo di vipera luccicò con ferocia, per metà acciaio, per metà bronzo celeste. Quella spada mi aveva quasi ucciso diverse volte. Era un'arma malvagia, capace di freddare sia i mortali che i mostri. Era l'unica lama che temevo veramente. Mi hai giurato fedeltà, gli rammentò Crono. Hai ricevuto questa spada come prova del tuo giuramento. Sì, mio signore, solo che... Volevi il potere. Te l'ho dato. Ora sei invulnerabile. Ben presto governerai il mondo degli dèi e quello mortale. Non desideri vendicarti. Non vuoi assistere alla distruzione dell'Olimpo. Luke fu scosso da un brivido. Sì. La barra si illuminò e una luce dorata riempì la stanza. Allora prepara le forze d'attacco. Non appena l'affare sarà concluso, avanzeremo. Prima il campo mezzo sangue sarà ridotto in cenere. E quando quelle seccature di eroi saranno eliminati, marceremo sull'Olimpo. Qualcuno bussò alla porta. La luce della barra si spense. Luke si alzò. Rinfoderò la spada, si aggiustò le vesti bianche e fece un respiro profondo. Avanti. La porta si aprì. Due dracene strisciarono dentro. Donne serpente con una duplice coda di serpente al posto delle gambe. In mezzo a loro avanzava Kelly, l'impusa cheerleader del mio giro di orientamento. Ciao, Luke. Kelly sorrise. Indossava un vestito rosso ed era bellissima. Ma io avevo visto la sua vera forma e sapevo cosa nascondeva. Zampe male assortite, occhi rossi, zanne e capelli di fuoco. Che vuoi, demone? La voce di Luke era gelida. Ti ho detto di non disturbarmi. Kelly si imbronciò. Non sei molto gentile, sembri teso. E se ti facessi un massaggino alle spalle? Luke fece un passo indietro. Se hai qualcosa da riferire, dillo. Altrimenti vattene. Non so perché sei così scorbutico ultimamente. Una volta era divertente uscire insieme a te. Succedeva prima che vedessi cosa hai fatto a quel ragazzo a Seattle. Oh, quello. Ma non significava nulla, replicò Kelly. Solo uno spuntino, davvero. Sai bene che il mio cuore appartiene soltanto a te, Luke. Grazie, ma ne faccio volentieri a meno. Ora parla. Oh, vattene. Kelly fece spallucce. D'accordo. L'avanguardia è pronta, come avevi chiesto. Possiamo partire. Agrottò la fronte. Che c'è? chiese Luke. Una presenza, rispose Kelly. Ti si stanno offuscando i sensi, Luke. Siamo osservati. Perlustrò la cabina con lo sguardo. Poi mi mise a fuoco. Il suo volto appassì, trasformandosi in quello di una strega. Scoprì le zanne e si tuffò. Mi svegliai di soprassalto, con il cuore che mi martellava nel petto. Avrei giurato che le zanne dell'empusa fossero a un centimetro dalla mia gola. Tyson russava nel letto vicino e quel rumore mi calmò un po'. Non capivo come Kelly fosse riuscita a percepirmi, ma avevo saputo abbastanza. Un esercito era pronto. Crono lo avrebbe guidato di persona. Gli serviva solo un modo per orientarsi nel labirinto e poi avrebbe invaso e distrutto il campo mezzo sangue. A quanto pareva, Luke pensava che non mancasse molto. Fui tentato di andare a svegliare Annabeth per raccontarle tutto, anche se era notte fonda. Poi mi resi conto che la stanza era più luminosa di quanto avrebbe dovuto. Un bagliore verde-azzurro proveniva dalla fontana di acqua salata, più luminoso e più urgente della notte prima. Sembrava quasi che l'acqua emanasse un ronzio. Scesi dal letto e mi avvicinai. Stavolta nessuna voce si levò per chiedermi una dracma. Ebbi la sensazione che la fontana aspettasse che fossi io a fare la prima mossa. Probabilmente sarebbe stato meglio tornarmene a letto. Invece ripensai a quello che avevo visto la notte prima. Quella strana scena di Nico sulle rive dell'Ostige. «Stai cercando di dirmi qualcosa», mormorai. La fontana non rispose. «E va bene», dissi. «Mostrami Nico di Angelo!» Non gettai nessuna moneta, ma stavolta non fu necessario. Era come se un'altra forza avesse il controllo dell'acqua. Una forza diversa da Iride, la dea messaggera. L'acqua scintillò e comparve Nico. Ma non era più negli inferi. Era in un cimitero sotto un cielo stellato. Dei grandi salici giganti si stagliavano intorno a lui. Stavo osservando dei becchini all'opera. Udì il rumore delle vanghe e vidì della terra che volava fuori da una fossa. Nico indossava un mantello nero. C'era la nebbia e l'aria notturna era calda e umida. Sentivo gracidare delle rane. Ai piedi di Nico c'era un grosso sacchetto del supermercato. «Non è ancora abbastanza fonda?» chiese Nico. Sembrava irritato. «Ci siamo quasi, mio signore». Era lo stesso spettro che avevo visto con lui la notte prima, l'immagine debole e tremolante di un uomo. «Ma, mio signore, devo dirtelo. Non è necessario. ci sono già io a consigliarti». «Voglio un'altra opinione!» Nico schioccò le dita e le vanghe smisero di scavare. Due figure uscirono dalla fossa. Non erano persone. Erano scheletri vestiti di stracci. «Potete andare», disse Nico. «Grazie». Gli scheletri si disfecero, crollando in un mucchietto di ossa. «Tanto valeva ringraziare le vanghe», si lamentò lo spettro. «Hanno lo stesso cervello». Nico lo ignorò. Infilò la mano nel sacchetto del supermercato e tirò fuori una confezione di Coca-Cola da dodici. Aprì una lattina e, invece di berla, la versò nella tomba. «Che i morti tornino ad assaporare questo cibo», mormorò. «Che sorgano e accolgano questa offerta?» «Che ricordino!» Gettò il resto delle lattine nella tomba e tirò fuori un sacchetto di carta bianco, decorato con le immagini di un cartone animato. Non ne vedevo uno da anni, ma lo riconobbi lo stesso. Era un Happy Meal di McDonald's. Lo rovesciò e cominciò a scuoterlo, riversando patatine e hamburger nella tomba. «Ai miei tempi usavamo sangue animale», brontolò lo spettro. «È più che sufficiente. Tanto non si accorgono della differenza». «Voglio trattarli con rispetto», replicò Nico. «Almeno lasciami la sorpresa», protestò l'altro. «Silenzio!» ordinò Nico. Svuotò un'altra confezione di lattine e altri tre Happy Meal nella tomba. Poi iniziò a cantilenare in greco antico. E riuscì a cogliere solo qualche parola. Parlava di morti, di ricordi e di ressurrezioni. Insomma, tutte cose allegre. La tomba cominciò a ribollire. Un liquido marrone e schiumoso salì fino al bordo, come se l'intera fossa si stesse riempiendo di Coca-Cola. La nebbia si infittì. Le rane smisero di gracidare. Dozzine di figure iniziarono ad apparire fra le lapidi. Sagome bluast, vagamente umane. Nico aveva evocato i morti con la Coca-Cola e i cheeseburger. «Ce ne sono troppi», commentò lo spettro nervoso. «Non conosci i tuoi poteri!» «Ho tutto sotto controllo», ribatte Nico, anche se la sua voce sembrava fragile. Sguainò la spada. Una lama corta di metallo nero. Non avevo mai visto niente di simile. Non era né bronzo celeste né acciaio. «Ferro, forse?» La folla di ombre arretrò alla sua vista. «Uno alla volta», ordinò Nico. Una figura si fece avanti da sola, fluttuando, e si inginocchiò sul bordo della fossa. Beve rumorosamente, quindi pescò qualche patatina con le sue mani spettrali. Quando si rialzò, riuscì a distinguerlo in modo molto più chiaro. Era un ragazzo in armatura greca. Aveva i capelli ricci e gli occhi verdi, e una spilla a forma di conchiglia sul mantello. «Chi sei?» disse Nico. «Parla!» Il giovane aggrottò la fronte, come sforzandosi di ricordare. Poi parlò con una voce secca, simile a un foglio accartocciato. «Sono Teseo!» «Impossibile!» pensai. Non poteva essere quel Teseo. Era solo un ragazzino. Ero cresciuto con le storie del Minotauro e via dicendo, ma me lo ero sempre immaginato come una specie di umaccione. Lo spettro che ora avevo davanti agli occhi non era né forte né alto. E non era più grande di me. «Come posso recuperare mia sorella?» chiese Nico. Gli occhi di Teseo erano inerti come vetro. «Non provarci! È una follia!» «Dimmelo!» «Il mio patrigno morì!» ricordò Teseo. «Si gettò in mare perché pensava che fossi morto nel labirinto. Volevo riportarlo indietro!» «Ma non ci riuscì!» Lo spettro di Nico sibilò. «Mio signore! Lo scambio di anime! Chiediglielo!» Teseo si accigliò. «Quella voce! Conosco quella voce!» «Non è vero, sciocco!» protestò lo spettro. «Rispondi alle domande del tuo signore taci!» «Io ti conosco!» insistette Teseo sforzandosi di ricordare. «Voglio sapere di mia sorella!» lo incalzò Nico. «Questa impresa nel labirinto mi aiuterà a riaverla!» Teseo stava cercando l'altro spettro con lo sguardo, ma non riusciva a scorgerlo. Lentamente riportò gli occhi su Nico. «Il labirinto è in fido! Fu solo una cosa ad aiutarmi! L'amore di una ragazza mortale!» Il filo era solo parte della risposta. Fu la principessa a guidarmi. «Non ci servono queste sciocchezze!» protestò lo spettro. «Ti guiderò io, mio signore! Chiedigli dello scambio di anime! Chiedigli se è vero!» «Te lo dirà!» «Un'anima in cambio di un'anima!» domandò Nico. «È vero?» «Io sono costretto a rispondere sì!» «Ma quello spettro! Limitati a rispondere alle domande, canaglia!» Tuono l'altro. All'improvviso, gli altri fantasmi ai bordi della fossa divennero irrequieti. Cominciarono ad agitarsi, bisbigliando nervosi. «Voglio vedere mia sorella!» esclamò Nico imperioso. «Dov'è?» «Sta arrivando lui!» rispose Teseo, intimidito. «Ha percepito la tua evocazione!» «Eccolo! Arriva!» «Chi?» domandò Nico. «Viene a scoprire la fonte di questo potere!» continuò Teseo. «Devi lasciarci andare!» L'acqua della mia fontana cominciò a vibrare, ronzando di potere. Mi resi conto che la capanna stava tremando. Il rumore crebbe. L'immagine di Nico nel cimitero si accese di una luce sempre più forte, fino a farmi male agli occhi. «Basta!» gridai. «Basta!» La fontana cominciò a incrinarsi. Tyson borbottò qualcosa nel sonno e si girò dall'altra parte. Una luce viola gettò delle ombre orribili e spettrali sulle pareti, come se gli spiriti stessero fuggendo attraverso la fontana. Preso dalla disperazione, tolsi il cappuccio a vortice e menai un fendente, spaccando la fontana in due. L'acqua salata si riversò ovunque e la grande pietra da cui zampillava franò sul pavimento. Tyson sbuffò e brontolò qualcosa, ma continuò a dormire. «Io crollai a terra, scosso dai brividi per quello che avevo visto!» Tyson mi trovò lì il mattino dopo, gli occhi ancora puntati sulle macerie. Appena dopo l'alba, il drappello dell'impresa si incontrò al pugno di Zeus. Avevo preparato lo zaino, un termos di nettari, una bustina di ambrosia, sacco a pelo, corda, vestiti, torce e un bel po' di batterie di scorta. Al polso portavo il magico scudo orologio che Tyson aveva fabbricato per me. Era un mattino sereno, la nebbia si era alzata e il cielo era azzurro. I ragazzi del campo avrebbero avuto le loro lezioni anche quel giorno. Equitazione con i pegasi, tiro con l'arco e arrampicata sulla parete lavica. Tutto mentre noi scendevamo sottoterra. Juniper e Grover si tennero un po' in disparte. Juniper aveva pianto di nuovo, ma stava cercando di farsi forza per lui. Continuava ad aggiustargli i vestiti, raddrizzandogli il berretto rasta e strofinandogli la maglietta per eliminare qualche pelo caduto. Siccome non avevamo idea di cosa ci aspettasse, si era vestito da umano, con il berretto per coprire le corna, i jeans, i piedi finti e le scarpe da ginnastica per nascondere le zampe caprine. Chirone, Quintus e la signora Oleiri erano con gli altri ragazzi venuti ad augurarci buona fortuna. Ma c'era troppo da fare perché la partenza fosse davvero felice. Avevano piazzato due tende vicino alle rocce per il servizio di guardia. Beckendorf e i suoi fratelli stavano lavorando a una linea di picchie e di trincee difensive. Chirone aveva deciso che si doveva montare una guardia continua all'ingresso del labirinto per ogni evenienza. Annabeth stava effettuando l'ultimo controllo bagagli. Quando arrivamo io e Tyson, si accigliò. Percy, è un aspetto terribile. Stanotte ha ucciso la fontana, le confidò Tyson. Cosa? Prima che potessi spiegarle, Chirone si avvicinò al trotto. Bene, direi che siete pronti. Si sforzava di sembrare allegro, ma si capiva che era preoccupato. Non volevo spaventarlo ulteriormente, ma ripensai al mio ultimo sogno. E prima che potessi cambiare idea, dissi... Ehi, eh... Chirone, posso chiederle un favore mentre sono via? Ma certo, figliolo. Torno subito, ragazzi. Indicai il bosco con un cenno. Chirone inarcò un sopracciglio, ma mi seguì in disparte dove gli altri non potevano ascoltarci. Stanotte ho sognato Luke e Crono, confessai e gli raccontai tutto. La notizia sembrò gravarlo di un ulteriore peso sulle spalle. È quel che temevo, commentò. Contro mio padre Crono. Non avremmo alcuna possibilità in battaglia. Chirone si riferiva raramente a Crono come a suo padre. Sì, insomma, lo sapevamo tutti. Nel mondo greco, ognuno, Dio, mostro o titano che fosse, era imparentato con tutti, in un modo o nell'altro. Ma quel legame non era certo qualcosa di cui andare fieri. Oh, il mio papà è il potentissimo re dei titani che vuole distruggere la civiltà occidentale. E voglio essere proprio come lui da grande. A cosa alludeva, parlando di un affare, chiesi? Non ne sono sicuro, ma temo che cerchino di stringere un accordo con Dedalo. Se il vecchio inventore è davvero vivo e se non è impazzito dopo millenni trascorsi nel labirinto... Beh, Crono può trovare il modo di piegare chiunque al proprio volere. Non chiunque, protestai. Chirone riuscì a sorridere. No, forse non chiunque. Ma, Persi, devi fare attenzione. Da qualche tempo mi preoccupa l'idea che Crono possa cercare Dedalo per un'altra ragione. Non solo per attraversare il labirinto. E cioè? Qualcosa di cui ho già discusso con Annabeth. Ricordi cosa mi hai raccontato del tuo primo viaggio a bordo della Principessa Andromeda, la prima volta che hai visto la bara? Annui. Luke mi parlò della resurrezione di Crono, del fatto che ricompariva pezzo dopo pezzo nella bara ogni volta che qualcuno si univa alla sua causa. E cosa ti disse che avrebbero fatto una volta compiuta questa resurrezione? Mi corse un brivido lungo la schiena. Disse che avrebbero procurato a Crono un corpo nuovo, degno delle fucine di Efesto. Esatto, confermò Chirone. Dedalo è stato il più grande inventore del mondo. Ha creato il labirinto, ma anche molto altro. Automi, macchine pesanti. E se Crono volesse fargli costruire la sua nuova forma? Che pensiero allegro! Dobbiamo trovarlo per primi, esclamai, e convincerlo a non farlo. Lo sguardo di Chirone si smarrì fra gli alberi. Un'altra cosa che non capisco, il riferimento a quell'ultima anima che si unisce alla loro causa. Non promette nulla di buono. Tenni la bocca chiusa, ma mi sentì in colpa. Avevo preso la decisione di non rivelargli l'identità di Nico. Però quel parlare di anime... E se Crono sapeva già della sua esistenza? E se fosse riuscito a farlo diventare malvagio? Stavo quasi per cambiare idea e vuotare il sacco. Però ci rinunciai. Primo, perché dubitavo che Chirone potesse farci qualcosa. E poi, perché dovevo essere io a ritrovare Nico. Dovevo spiegargli come stavano le cose. Convincerlo ad ascoltare. Non lo so, conclusi. Ma Juniper mi ha detto una cosa che forse dovrebbe sapere anche lei. Gli riferì di come la ninfa avesse visto Quintus che curiosava fra le rocce. Chirone serrò la mascella. La cosa non mi sorprende. La cosa non la... Vuol dire che lo sapeva già? Percy, quando Quintus si è presentato al campo per offrire i suoi servizi, sarei stato sciocco a non nutrire dei sospetti. Allora perché lo ha accolto? Perché a volte è meglio avere vicino le persone di cui non ci si fida, se vogliamo tenerle d'occhio. Forse è solo chi dice di essere. Un mezzo sangue alla ricerca di una casa. Di certo non ha fatto nulla per indurmi a dubitare della sua lealtà. Ma credimi, terrò un occhio aperto. Si avvicinò Annabeth, probabilmente curiosa di sapere perché parlavamo tanto. Percy, sei pronto? Annui. Mi infilai la mano in tasca dove custodivo il fischietto che mi aveva dato Quintus. Alzai lo sguardo e vedi che l'uomo mi stava scrutando con attenzione. Sollevò la mano in un addio. Le nostre spie riferiscono che abbiamo avuto successo, aveva detto Luke, il giorno stesso in cui avevamo deciso di lanciare un'impresa. Luke lo aveva saputo. Allora a presto, ci disse Chirone. E buona caccia. Anche a lei, risposi. Raggiungemmo le rocce dove Tyson e Grover ci stavano aspettando. Guardai la fessura fra i massi. L'ingresso che stava per inghiottirci. Bene, esclamò Grover nervoso. Addio sole. Buongiorno rocce, concordò Tyson. E insieme ci calammo tutti e quattro nelle tenebre. Grazie. Grazie.